Mi sto trovando benissimo, un gruppo molto accogliente, pronto a dare il massimo ad ogni allenamento, che ti fa tirare fuori il meglio di te in ogni situazione, facendo crescere ogni abilità, comunque fare in modo che tu cresca insieme al gruppo, in modo da essere al top in ogni situazione. Bellissime, cioè si è carichi, cioè pur avendo tutto l'ambiente contro, sia pronti a dimostrare che sia i migliori, cioè come gruppo siamo una squadra unita, anche se sono qui da poco, posso dirlo, perché siamo uniti e pronti a vincere, siamo tutti tendenti alla vittoria, diciamo. Perché la situazione in cui mi ero trovato non era delle migliori e qui comunque l'ambiente che avevo già conosciuto in precedenza con le giovanili mi fa sentire me stesso e mi fa crescere dal punto di vista individuale anche, oltre che di gruppo. Sarà una gara bellissima, oltre che tesa appunto per il livello di punteggi e non punteggi, ma sinceramente siamo in casa e vogliamo vincere tutti sotto questo punto di vista, quindi sarà bellissima, ma alla fine noi cercheremo sempre di vincere ovviamente.